Se siete interessati a migliorare drasticamente l'audio dei vostri video su YouTube oppure dei vostri lavori sul campo come videomaker, ragazzi rimanete sintonizzati perché siete nel posto giusto. Oggi ho quello che fa per voi. E allora amici ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube. Come vi anticipavo oggi voglio mostrarvi come andare a migliorare drasticamente l'audio dei vostri video, dei vostri lavori come videomaker e farlo anche in maniera molto molto professionale. Ovviamente ragazzi il periodo natalizio spinge a pensare che si possano compiere miracoli, magie, ma purtroppo vi devo deludere da questo punto di vista. E sì perché voglio semplicemente parlarvi di lui dello Zoom H5, un registratore microfono a quattro tracce davvero performante e che renderà proprio tutti quanti i nostri video molto molto più professionali. Allora amici prima di andarlo a vedere come sempre vi do alcune indicazioni, parleremo delle sue caratteristiche tecniche, ci sposteremo sul banco per vederlo più da vicino, le sue fattezze estetiche ma anche tutte quante le sue funzionalità in maniera tale da avere una panoramica generale su tutto ciò che può fare e valutare in maniera più approfondita il suo acquisto. Infine come faccio per ogni video dedicati a prodotti come questi lo testeremo, lo metterò alla prova con lo Zoom H4n Pro, il suo fratello maggiore ma più o meno siamo lì come qualità e infine trarremo le nostre conclusioni. Prima di fare il tutto come sempre se vi va di sostenere video come questi, il mio canale soprattutto, aiutatemi ad arrivare ai 10.000 iscritti e beh lasciate un like, iscrivetevi appunto al canale, attivate la campanellina delle notifiche e se vi va amici iscrivetevi anche al mio canale Telegram delle offerte perché prodotti come lo Zoom, prodotti come questi ma anche tanti altri spesso sono in sconto, spesso ci sono errori di prezzo e vi do anche io dei codici sconto. Mi raccomando non dimenticatelo perché soprattutto di questi periodi è bene usufruire anche di qualcosa che ci fa risparmiare. Se volete inoltre c'è sempre la mia chat Telegram collegata al canale, tutti quanti link amici in descrizione anche dello Zoom, chat Telegram che ci permette di discutere, di risolvere problemi relativi non solo ai tutorial che avete visto qui sul canale ma anche ad altre cose. Se vi va di supportarci, di supportare la chat, iscrivetevi, non mi dilungo oltre. Procediamo con la recensione. E allora diciamo qualcosina in più su questo Zoom. Anzitutto amici vi arriva in questa configurazione. Il registratore è sopra, permettetemi di chiamarla così per avere un linguaggio un po' più semplice, capsula microfonica anche se in realtà vedete le capsule microfoniche sono ben due. Questa capsula ragazzi è dotata di una rotellina per il gain che andrà poi ad agire appunto sui due microfoni. Microfoni molto interessanti perché sono montati direttamente su uno shock mount, pertanto andranno a ridurre drasticamente proprio tutte quante le interferenze, tutti quanti i tremolini che il registratore può subire proprio in fase di lavoro. Infatti guardate le vado a toccare, si muovono ovviamente, le devo fare sempre in maniera molto molto delicata. È un registratore come li anticipavo a quattro tracce, infatti vedete sotto oltre alla capsula stereo anche due ingressi XLR che permettono anche l'ingresso di dispositivi jack, quindi microfoni che vanno su jack. È un registratore che con la sua capsula cattura audio a 140 decibel può registrare fino a 96 kHz, molto molto interessante perché è un audio che soprattutto con l'accoppiata a 24 bit risulta davvero pulito e preciso proprio da questo punto di vista. Però ragazzi qualora non voleste questa capsula potrete semplicemente acquistarne un'altra, infatti lei si può separare comodamente dal registratore, io per l'utilizzo che ne faccio su YouTube ho già acquistato quella shotgun che mi permette anche di registrare in audio stereo separato così da avere una traccia più alta e una più bassa per poter andare a avere salvo l'audio qualora una delle tracce andasse praticamente a bruciarsi. A proposito della registrazione a 96 kHz questa è possibile solo utilizzando la parte stereo dello zoom, mentre utilizzando le porte XLR in accoppiata però con la porta stereo ragazzi l'audio scende a 48 kHz, ma insomma poco importa perché ragazzi i 48 kHz diciamoci la verità sono lo standard più comune soprattutto su YouTube e anche su lavori abbastanza professionali, quindi nessun problema da questo punto di vista. Inoltre lo zoom è dotato di un alloggiamento per due batterie stilo che possono essere anche al nickel metal idruro, lui può essere settato per riconoscere i due tipi di batterie così da andare a ottimizzare appunto la durata, durata che si aggira intorno alle 10 ore per l'utilizzo stereo con un gain non troppo elevato e che si dimezza qualora utilizzassimo proprio tutte quante le porte in ingresso del registratore. Ragazzi allora dette queste piccole cose ci spostiamo sul banco per vederlo in maniera più approfondita e dire anche qualcosa di più. E allora ragazzi eccoci qui questa è la confezione del nostro zoom h5 davvero ben fatta sinonimo di qualità ovviamente a noi interessa ben poco la confezione piuttosto il suo contenuto e partiamo però proprio da lei per dare alcune specifiche tecniche su questo registratore specifiche che comunque vi ho già anticipato all'inizio del video. È un registratore capace di registrare in 24 bit 96 kilohertz attenzione però ragazzi solo nella modalità stereo non in quella multitraccia dove arriva fino a 48 kilohertz. È dotato di una capsula microfonica in realtà ne sono due vi ricordo che l'h5 come l'h6 ha la possibilità di staccare la parte superiore e dunque alternare accessori. In questo caso ha un dispositivo con due capsule ma possiamo agganciare uno shotgun, possiamo agganciare anche un altro dispositivo che ci permette di avere due ingressi XLR aggiuntivi e chi più ne ha più ne metta perché ce ne sono davvero tantissimi di accessori agganciabili proprio allo zoom. In ogni modo l'accessorio che esce all'interno ha due capsule abbiamo detto dotate di shock mount integrato e hanno una capacità di 140 decibel. Abbiamo due ingressi XLR ma anche jack che permettono di collegare microfoni esterni a condensatore dinamici eccetera. Possiamo anche andare a controllare il gain di ogni singola porta qui con la rotellina. Poi abbiamo delle funzioni di limitatore, compressore e così via e abbiamo la possibilità di registrare su una SD fino attenzione ragazzi a 32 gigabyte questo da specifiche però ho notato che con gli ultimi aggiornamenti del firmware possiamo aggiungere anche schede superiori infatti io ho aggiunto una scheda da 64 gigabyte la legge perfettamente e risulta anche il corrispettivo del tempo però valutate ragazzi perché molto dipende anche da che tipo di schedina andate ad inserire della velocità eccetera. E infine è dotato di due alcaline normali ma possiamo inserire anche delle nickel metal idruro infatti è configurabile in questa maniera per permetterle di riconoscere che hanno una durata all'incirca di 10 ore ad un utilizzo normale nel senso con un gain non troppo elevato l'utilizzo soltanto dello stereo oppure l'utilizzo dei due ingressi XLR ma magari utilizzando tutto in contemporanea ecco che la sua capacità va a diminuire però poco importa perché è dotato di una porta mini usb che serve anche per l'alimentazione infatti dopo vedremo lo collegherò proprio ad un power bank nonostante le batterie ci siano all'interno ma va bene andiamo ad aprire la confezione diciamo qualcosa di più proprio su di lui e allora si presenta in questa maniera protezione vedete in simil polistirolo che non oserei definire della gomma piuma e vado a tirare fuori proprio lo zoom eccolo qui e allora vedete si presenta in questa maniera vado a togliere un attimo la parte superiore la metto da parte vi faccio vedere che subito al suo interno ci sono manualetti di utilizzo manualetti in più lingue quindi non avrete nessun problema nell'utilizzarlo ci dovrebbe essere anche la lingua in italiano togliamo un attimo e passiamo proprio alla confezione principale eccola qui qui abbiamo il nostro zoom che come potete già vedere è all'interno di una custodia di plastica protettiva ma questa custodia tra l'altro ha anche una particolarità che a breve vi andrò a mostrare abbiamo all'interno della confezione anche un filtro antivento calibrato proprio per le capsule di questo zoom infatti vedete a questo taglio particolare perché si va ad inserire in maniera sfalsata proprio sulle capsule dello zoom che sono incrociate sono sfalsate appunto mettiamo da parte anche questo cavetto mini usb al suo interno non vado ad aprire e senza che le tiro fuori vedete batterie alcaline già incluse ma io preferisco utilizzare quelle al nickel metal idruro allora andiamo ad aprire la confezione vi faccio vedere subito la sua particolarità da un lato il nostro zoom protetto da ulteriore pellicola chiamiamola così ed ecco la sua confezione ha anche praticamente una schiuma che mi sembra piuttosto quella dei pannelli fono assorbenti che vanno poi a proteggere lo zoom allora tiriamolo fuori e finalmente lo abbiamo in tutto quanto il suo splendore eccolo qui bello davanti a noi guardiamolo un attimo più da vicino prima di andarlo ad accendere e come sapete ragazzi di vederne tutte quante le funzionalità allora parte frontale anzitutto l'accessorio di cui vi parlavo sopra con le due capsule e l'avvicino proprio per farvi vedere queste sono le due capsule guardate le vado a muovere ecco qui perché questi sono proprio degli shock mount che si collegano proprio all'accessorio vero e proprio attraverso questo cavo in tessuto quindi un'attenzione davvero particolare a questo dettaglio abbiamo la rotellina del game protetta da questa sorta di barra in metallo barra che ritroviamo anche qui sotto ovviamente ragazzi non so fino a che punto ci sia bisogno di una protezione di questo tipo però può essere piuttosto una scelta estetica che altro allora capsule abbiamo visto vi faccio subito notare che attraverso la pressione di questi due pulsantini laterali si può staccare e qui possiamo andare ad attaccare altri accessori uno shotgun oppure altri tipi io in particolare lo utilizzerò con lo shotgun stereo che mi dà la possibilità di registrare in stereo ma anche di tenere per esempio un canale più alto e uno più basso come traccia di recupero qualora l'audio andasse bruciato per qualche ragione lo vado a reinserire al suo interno abbiamo qui il suo display che come vedremo è retroilluminato ma non a colori due rotelline del gain per i due ingressi microfonici xlr ma anche jack vedete li abbiamo proprio qui e poi abbiamo tutta quanta una serie di tasti left e right che ci permettono di andare a registrare attraverso la capsula 1 e 2 che ci permettono di selezionare le due sorgenti xlr jack poi abbiamo i tasti stop play pausa indietro e avanti perché lui può essere utilizzato anche come un riproduttore di audio sia attraverso uno speaker interno che abbiamo qui davvero poca cosa comunque ragazzi ma anche attraverso la sua uscita cuffie che principalmente un'uscita monitor ma sulla quale possiamo collegare anche delle casse ed utilizzarlo in questa maniera direttamente dai tasti play pausa che troviamo qui stop eccetera ma lui attraverso la sua porta e passiamo dunque alla parte laterale del nostro zoom attraverso la sua porta mini usb oltre che essere alimentato può essere anche trasformato in una vera e propria scheda audio da collegare al nostro computer non c'è bisogno di driver su mac viene riconosciuto semplicemente come un dispositivo di riproduzione su windows invece c'è bisogno del suo driver che comunque possiamo trovare sul sito zoom volume più volume meno per l'audio con questo bilanciere audio che ovviamente andrà ad alzarsi e ad abbassarsi in cuffia oppure dalla capsula oppure dallo speaker posteriore tasto di accensione di spegnimento a scorrimento con la possibilità di mantenerlo anche in posizione hold che va a bloccare praticamente i tasti durante l'utilizzo passiamo un attimo all'altro lato e vediamo che c'è l'ingresso per il remote vale a dire per il suo telecomando a filo abbiamo qui invece una rotellina scatto chiamiamola così non so come definirla per poterci muovere all'interno dei menu menu che è attivabile proprio attraverso questo tastino qui invece abbiamo lo sportellino per la sd vedete eccola qui ho già inserita al suo interno sportellino in gomma e anche abbastanza resistente cosa che su altri dispositivi zoom insomma lasciava un pochino a desiderare perché si andava subito a rompere poiché la giuntura diciamo non era fatta in gomma ma era fatta in una piccola plastica in film di plastica che si andava facilmente a spezzare qui non dovremo avere questo tipo di problema parte posteriore vedete filettatura da un quarto per poterlo agganciare a un cavalletto uno stativo eccetera sportellino per poter andare ad inserire le batterie a differenza per esempio dell'h4n pro che avete già visto qui sul canale ragazzi qui non c'è una levetta che ci permette di andarlo a impostare in modalità risparmio energetico cosa che c'era invece sullo zoom h4n pro inoltre lo zoom h4n pro qui nella parte posteriore vicino al foro per poter mettere un reggi microfono quelli in tessuto no a braccialetto aveva anche un ingresso dc proprio per la corrente oltre a essere alimentato tramite la porta mini usb questo manca ma diciamo che questo zoom h5 è certamente un modello precedente all'h4n pro però è particolare proprio perché oltre ad avere l'xlr come l'h4n pro ha la possibilità di sganciare ecco la grande capsula che si trova sopra al microfono cosa che l'h4n pro non può fare è soltanto stereo oppure 12 ma utilizzando solo la sua capsula che è molto simile ed integrata al registratore io l'ho preso proprio per questo per utilizzarlo sia in questa maniera ma soprattutto con lo shotgun per le mie riprese approfitto per dire ragazzi che prima utilizzavo lo zoom f1 per le mie riprese registratore fatto benissimo ma l'ho messo in vendita quindi chi lo volesse acquistare mi può chiamare praticamente nuovo l'ho utilizzato soltanto per qualche video e per la recensione lo vendo semplicemente perché ho bisogno di registrare con lo shotgun in più tracce contemporaneamente tutto qui non ci sono particolari motivi ok vi ho detto tutto sull'estetica le funzionalità adesso non ci resta che passare alla sua accensione vedere le funzioni e allora powerbank collegato lo vado ad accendere bisogna tenere premuto e vedete lo zoom si sta accendendo con il suo display retroilluminato versione firmware 2.2 vi ricordo che lui andrà a leggere la sd card in base alla velocità della vostra sd card aumenterà anche la velocità di registrazione andiamo anzitutto a vedere le prime informazioni che troviamo sul display guardate questo è il tempo rimanente con questa scheda sd da 64 gigabyte con un wave impostato a 96 kilohertz 24 bit abbiamo 30 ore e 40 minuti di registrazione ma vi assicuro che può variare proprio in base alle modalità che noi andiamo a scegliere left e right xy 5 la modalità di registrazione che a breve vedremo folder one perché possiamo dividere anche in cartelle e ci dice che al momento è vuoto abbiamo qui il monitor dell'audio che io ho impostato su mono ragazzi non sto tenendo in stereo perché mi interessa semplicemente avere una modalità di registrazione ad un canale diciamo così e poi abbiamo visto proprio qui la modalità di registrazione il formato di registrazione come vi ho anticipato in precedenza ok allora adesso semplicemente entriamo nel menu premendo proprio il tasto laterale e andiamo a vedere prima di tutto la parte finale del menu perché vi voglio far vedere una cosa è vero il menu non cambia molto alcune impostazioni saranno settabili o meno in base a come andremo a impostare il nostro registratore vi faccio subito vedere rec mode vado a cliccarci multifile o stereo file chiaramente in multifile come vi anticipavo non possiamo usufruire dei 96 kHz allora andiamo su stereo file e torniamo allora nel menu e partiamo adesso finalmente dalla prima voce file list chiaramente mi dice che non ci sono file ma qui potrò andare a vedere tutti i file registrati e riprodurli poi comandarli con i tasti play pausa avanti dietro e stop folder la stessa cosa ci dice quante cartelle abbiamo all'interno del nostro registratore ce ne sono ben 10 per tornare indietro basta cliccare il tasto menu passiamo adesso a voci più interessanti in e out vedete possiamo andare ad abilitare un low cat un limitatore delle basse frequenze e possiamo farlo sia in input sul left e right del nostro microfono della capsula vera e propria sia sul canale 1 sia sul canale 2 oppure andarli ad abilitare proprio su tutti quanti i canali e vedete possiamo andare a tagliare le frequenze di 80 hertz 98 115 133 150 168 185 203 220 237 e basta per intenderci questo è molto importante ragazzi anche se io al momento la tengo disabilitata perché qualora voi registraste in ambienti con un ventilatore acceso con un condizionatore acceso tagliare queste basse frequenze ci permette direttamente in registrazione di andare a togliere proprio quei rumori di fondo poi abbiamo vedete un limitatore compressore stessa cosa possiamo abilitarlo sulla capsula principale sui due canali oppure su tutte e due e vedete abbiamo già delle preimpostazioni di compressione una compressione generale quindi dove ci sono più rumori suoni voci tutte quante messe insieme vocale quindi semplicemente una canzone o un parlato drum quindi delle percussioni e così abbiamo un limitatore generale un limitatore in concerto un limitatore in studio eccetera allora torno indietro semplicemente il compressore limitatore ci permetterà di mantenere la voce agli stessi livelli nel momento in cui ci saranno degli sbalzi diciamo così di voce ecco che lui cercherà di livellare tutto e anche in fase di ascolto praticamente non si avranno questi sbalzi di suoni che diventano in certi casi assordanti possiamo andare ad abilitare l'alimentazione phantom vedete sulle due porte xlr possiamo anche abilitarlo solo su una singola porta questo chiaramente ragazzi ci servirà per far funzionare alcuni tipi di microfono soprattutto quelli a condensatore che hanno bisogno appunto dell'alimentazione phantom possiamo anche scegliere qui il voltaggio molto interessante da 12 volt fino a 48 con la via di mezzo 24 questo in base al microfono che andate ad utilizzare cosa molto molto interessante perché vi faccio un esempio qualora voi voleste utilizzare un microfono road penso per esempio all'ntg 4 plus che è alimentato sia batteria in quel caso ma anche con alimentazione phantom ecco che voi potrete sfruttare l'alimentazione phantom per alimentarlo e quindi tenere in salvo la batteria che può diventare anche una sorta di backup in fase di registrazione qualora dovesse succedere qualcosa anche se chiaramente con l'alimentazione phantom questi problemi non ci sono si verificherebbero soltanto se il registratore venisse spento plug in power anche qui alimentazione per i microfoni plug in scorriamo in 12 pad vedete possiamo andare a diminuire di 20 decibel che cosa le due linee xlr anche qui proprio per evitare rumori fastidi e così via possiamo andare ad effettuare anche sulle due linee ingresso xlr un ms matrix ovviamente ora non posso perché ho attivato il mono come vi dicevo che ci serve in un certo senso per andare a fondere i livelli di registrazione vedete possiamo avere un livello medio un livello più spinto verso uno dei due lati e così via input settings vedete possiamo andare a sceglierli torniamo un attimo indietro qui poi possiamo andare ad attivare anche il monitor di registrazione quello che vedevate prima in modalità stereo oppure in modalità raw chiaramente per le modifiche dell'audio successivo in maniera più precisa scorriamo qui possiamo andare ad abilitare il mono quindi on e off quello che vi dicevo per non registrare in stereo su due canali diversi magari se state registrando lateralmente allo zoom è chiaro che l'audio lo prenderà maggiormente questa capsula che più rivolta verso di voi e meno questa quindi su questo canale praticamente la voce sarà più bassa allora qualora volessimo unire direttamente la traccia avere la stessa traccia lo stesso audio all'interno di tutte e due le cuffie possiamo semplicemente fare in questa maniera senza doverlo fare in post produzione ma questa funzione ragazzi principalmente è importante e soprattutto tenerla separata quindi non andare in mono qualora voi steste facendo un intervista diciamo che lui può catturare fino a 90 gradi mentre lo zoom h4n pro può in un certo senso essere sguicciato fino a 120 gradi però qualora steste facendo una registrazione ripeto di un'intervista chiaramente le due voci sono diverse e la modalità separata delle tracce quindi in stereo vi permetterà di poterci lavorare bene in post produzione quindi lavorare sulle due voci separate scorriamo sotto line out live vale a dire che noi qualora collegassimo sulla sua line out una fotocamera per esempio quindi utilizziamo lui come microfono e andiamo a registrare sulla fotocamera possiamo andare a regolare i decibel in uscita su quella linea ma io vi consiglio di tenere al minimo proprio il volume della fotocamera qualora utilizzaste questa modalità ma qui potrete anche collegare che ne so una cassa monitor eccetera e andare poi a regolare il volume di uscita della registrazione direttamente da questa impostazione così potrete tenerlo ad un livello fisso per esempio qualora utilizzaste sempre quella stessa uscita e poi regolare vicino all'uscita vera e propria il volume definitivo questo è molto importante per evitare frusci durante la registrazione menu dunque terminato torniamo un attimo indietro andiamo ecco nelle impostazioni di registrazione formato di registrazione vedete io ho impostato il massimo che è un wave 96 kilohertz 24 bit ma possiamo partire da un mp3 48 kilobyte per secondo 56 64 80 96 112 128 160 192 224 256 320 per poi passare alle tracce in wave 44 kilohertz classici a 16 bit 24 bit 48 a 16 e 24 e 96 non mi ci soffermo perché lo avete visto in precedenza auto rec che cosa significa possiamo attivare l'autoregistrazione noi possiamo andare a impostare un livello di cattura di audio iniziale ed uno finale in maniera tale che lui può andare a registrare automaticamente sostanzialmente per farla breve quando lui non capterà alcune frequenze si stopperà e poi ripartirà però questo ragazzi non è molto molto consigliato perché quando andremo poi a riascoltare il nostro audio sentiremo appena iniziata una frase una sorta di boost con relativo rumore di fondo che poi è difficile da andare a rimuovere in post produzione un autostop e così via pre rec questa può essere molto importante perché lui prima di andare a registrare quindi prima di premere il tasto rec andrà a registrare dei suoni in precedenza vuol dire che soprattutto quando si fa un'intervista magari la persona sta parlando e noi non abbiamo schiacciato rec stiamo schiacciando rec proprio in quel momento ecco che lui è capace di registrare quei secondi precedenti proprio per non farci perdere l'inizio di una frase possiamo andare a impostare anche un left e right backup che però in questo caso non può essere attivato perché c'è necessità di una frequenza o a 44 kHz o a 48 non a 96 sostanzialmente ecco che lui può effettuare proprio un backup di ciò che stiamo registrando e lo può fare anche ad un volume più basso un po come vi dicevo in precedenza quando vi parlavo dello shotgun file name possiamo andare a scegliere che nome dare se quello predefinito oppure con la data poi abbiamo un counter setup count up down vuol dire che quando andremo a vedere il tempo di registrazione possiamo vedere il tempo da cui abbiamo iniziato fino alla fine oppure il contrario cioè il tempo che manca al termine però mette quasi l'ansia in quel caso sound marker è importante il sound marker perché noi potremo andare a impostare dei marcatori all'interno della nostra registrazione abbiamo diverse modalità vedete rec start start and end legati anche un po a quell'auto start e stop precedentemente cioè quando noi andiamo a schiacciare in questo caso però il tasto di registrazione o a finirlo ecco che lui può emettere un bip che possiamo scegliere qui vedete una sorta di onda slate e alta qualità livello audio del marker fino a 10 se non erro ok quindi questo è il volume attenzione però ragazzi perché se parlate proprio nel momento in cui viene messo il suono del marcatore ecco che la nostra voce può essere compromessa ebbene menu terminati torniamo indietro per vedere le ultime cose menu play sul quale non mi soffermo più di tanto perché possiamo impostare le classiche cose che troviamo su qualsiasi stereo la ripetizione dei brani mandare in play 1 tutti quanti ripeterne uno ripeterli tutti possiamo ecco il contatore impostare anche qui per la riproduzione che è diverso da quello della registrazione interessante anche il menu tool perché possiamo andare a scegliere il metronomo dove possiamo andare a scegliere il tempo per esempio vedete rec and play rec only play only quindi utilizzare lo zoom come un metronomo sia in registrazione o soltanto in fase di play il pre count anche qui il tempo possiamo impostare vedete 120 battiti in questo caso il suono che andrà a fare il metronomo poi magari potete provarli tranquillamente e così via vedete anche qui il tempo della registrazione quattro quarti cinque quarti e così via i livelli ovviamente del suono eccetera così come tuner per esempio possiamo andare ad impostare una sorta di equalizzatore cromatico chitarra basso eccetera qui non mi soffermo più di tanto sistema classiche cose data e ora backlight vale a dire la luce posteriore se tenerla sempre accesa 15 secondi 30 secondi oppure tenerla sempre spenta io ho impostato 30 secondi contrasto del display possiamo aumentarlo e diminuirlo battery type questo è importante perché se utilizzate come nel mio caso le batterie al nickel metal idruro ebbene selezionare nickel metal idruro così il contatore della batteria che vi faccio vedere compare semplicemente sta accanto il power bank vedete eccolo qui automaticamente è comparsa l'icona si attiva e lui può facilmente fare il calcolo della durata della vostra batteria vado a reinserire il power bank avete visto subito si è andato a disattivare dopo system sd card che possiamo andare a formatare e addirittura possiamo anche andare ad effettuare dei test inerenti alle sue performance ok abbiamo un test lungo e un test breve usb questo è un altro menu importante perché quando andiamo a collegare il nostro cavo mini usb al computer possiamo scegliere se lui debba essere utilizzato come sd card quindi senza estrarre la nostra sd utilizzarlo come se fosse proprio una penna usb attaccata e prendere i file oppure audio interface dunque come una vera e propria scheda audio e infine il menu che vi ho fatto vedere in precedenza rec mode dove impostare multifile o stereo file allora ragazzi abbiamo terminato di vedere le caratteristiche le possibilità di questo zoom non ci resta altro che effettuare la prova metterlo a confronto magari anche con lo zoom h4 n pro e vedere se ci sono effettivamente differenze questa è una prova di registrazione e di confronto tra due registratori lo zoom h5 e lo zoom h4 n pro sono posizionato ad una distanza di circa 40 centimetri dai due registratori e ricordo che tutto quanto l'audio registrato è un audio non trattato dunque un audio che non ha subito un post editing questo perché si possa comprendere qual è la loro capacità di riduzione dei rumori di fondo capire effettivamente quanto sono in grado di attutirli e ricordo che ho impostato lo zoom h5 su un gain di 8 quindi sfruttando la rotellina della sua capsula l'ho posizionata ad 8 e lo zoom h4 n pro che non è dotato di rotellina per il gain ma di bilanciere digitale è impostato più o meno sugli stessi valori quindi 8 sull'h5 dovrebbe corrispondere ad un 80% sullo zoom h4 n pro dunque questa è la prova di registrazione spero che si comportino bene entrambi ho usate Di si si ci No, no. P, 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 T, 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 S, S. In ambito di interviste con 2-3 persone lui riesce davvero a captare bene tutti quanti i suoni e grazie alla sua comoda rotellina di impostazione del gain anche permetterci di andare a diminuire quelli che sono i rumori di fondo. Perché proprio con la sua porta monitor sulla quale possiamo attaccare delle cuffie possiamo avere sempre tutto quanto sotto controllo. Ovviamente amici mi è piaciuto il fatto che la capsula sia sganciabile, sostituibile con altri modelli che trovate comodamente su internet ma magari vi lascio anche quelli qui sotto in descrizione. E per il resto cosa dire di più? Mi è piaciuto anche il fatto che le due porte XLR possano essere alimentate tramite Phantom così come tramite alimentazione plug-in. Inoltre anche la sua batteria è davvero di lunga durata. Quello che un po' invece manca a questo registratore parlando sempre delle batterie è lo switch che abbiamo trovato anche nello Zoom H4n Pro. Magari vi lascio la descrizione qui in alto nelle schede così potrete confrontare. Insomma lo switch che ci permette di mandare il registratore in risparmio energetico. E' anche vero che fondamentalmente grazie alla sua super durata, grazie al fatto che può essere alimentato tramite la porta mini USB con un powerbank o altro, insomma non ne sentiamo la mancanza. L'altra cosa che non tanto mi è piaciuta è il fatto che la microSD sia supportata ad una capacità massima di 32 GB. Vi ho anche detto che inserendone una da 64 GB sicuramente viene rilevata, ma in base alle situazioni qualche volta ci restituisce una durata maggiore della registrazione, altre volte minore. Quindi non è precisa da quel punto di vista. Però messa 32 GB precise ecco che avremo tutto quanto indicato in maniera puntuale. E allora ragazzi detto questo non mi sento di aggiungere altro. Vi dico solo che l'ho scelto rispetto allo Zoom H4n Pro per la sua capacità di adattamento, vale a dire staccando la capsula superiore, posso agganciarci uno shotgun oppure altri accessori che è molto molto comodo, soprattutto per chi come me fa video su YouTube oppure deve utilizzarlo per interviste o altro. E allora non ci resta che salutarci, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, per me è fondamentale amici così rimarrete sempre aggiornati. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, ci salutiamo, vi auguro una buona continuazione di feste e natalizie e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!